Ranciglio Ranciglio è presente nei mercati internazionali come azienda italiana che parla tutte le lingue. L'Italia è un mercato molto importante in cui questa azienda ha saputo costruire il proprio successo, un successo che le è stato riconosciuto anche all'estero, cui è destinata gran parte della produzione. L'azienda partecipa ogni anno in tutto il mondo a più di 70 fiere e conta 350 distributori in oltre 110 paesi. Negli ultimi 30 anni, Ranciglio ha prodotto oltre 240.000 macchine per caffè espresso destinate a bar, ristoranti e alberghi. La possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di prodotti coordinati che spaziano dall'uso professionale al domestico costituisce uno dei punti di forza di questa azienda, il cui obiettivo è quello di fornire la macchina più adatta ad ogni singola richiesta. Dalle macchine per caffè superautomatiche nelle loro versioni modulari a quelle tradizionali, automatiche e semi-automatiche, con display multifunzione, disponibili anche in una serie speciale con carrozzerie dorate o ramate. La gamma Ranciglio comprende anche una linea di macchine a dosatori automatici e standard estremamente robusti e affidabili, una linea di lavatazze costruite nel massimo rispetto delle norme di ergonomia e sicurezza, una linea di produttori di ghiaccio disponibili in varie dimensioni e versioni e una di piastre di cottura e vari accessori. Qualità e tradizione sono i valori che Ranciglio ha mantenuto nel tempo, contribuendo ad affermarla come azienda di primo piano, ovunque ci si trovi in Italia e nel mondo a gustare un buon caffè espresso. Ranciglio da sempre si è distinta per l'innovazione nell'impiego di nuove attrezzature e materiali e per la particolare attenzione nel controllo qualitativo di tutte le fasi produttive. Tutte le componenti strategiche, come ad esempio il gruppo erogatore e la caldaia, vengono prodotti all'interno per assicurare uno standard qualitativo superiore. Essere un'azienda leader, per Ranciglio, significa garantire i servizi di assistenza con una rete distributiva ben preparata dalla scuola tecnica interna e supportata dalla rapidità del servizio ricambi. Oltre alla sede centrale di Milano, Ranciglio conta una branch company in Nord America, un ufficio di rappresentanza in Australia e circa 700 centri di assistenza in tutto il mondo che garantiscono un più alto livello di efficienza e affidabilità. Inoltre, Ranciglio mette a disposizione un help online telefonico per qualsiasi tipo di consulenza e informazione con risposta immediata. Grazie ad un continuo impegno nello studio e nella progettazione, Ranciglio offre una gamma completa di prodotti coordinati e all'avanguardia, sotto l'insegna di un marchio già noto per qualità, affidabilità e prestigio. Con oltre 30 innovazioni coperte da brevetto, Ranciglio è presente sul mercato come azienda di riferimento, sensibile alle esigenze dei consumatori e dei propri clienti, e nel rispetto della tradizione garantisce le migliori bevande in tazza e le migliori prestazioni per il barista che ha scelto di utilizzare quotidianamente i prodotti Ranciglio.